Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati, grazie per essere qui con noi ancora una volta. Abbiamo iniziato quest'anno con un appuntamento gratuito dedicato a varie tematiche, praticamente con cadenza mentile e quindi eccoci qua anche oggi in questo periodo quasi primaverile ci stiamo avvicinando, ma non potevamo non cogliere l'occasione per trattare ovviamente un tema, anzi una festa che sta ovviamente arrivando anche lei. Non dico alle porte però ci siamo quasi, almeno per quanto riguarda la preparazione di tutte quelle che sono ovviamente le attività scolastiche. Stiamo parlando ovviamente della Pasqua ed ecco che siamo qui con Valentina Ambrosio, qualcuno di voi magari l'ha già conosciuta e oggi avremo AgCities for Easterra, quindi come utilizzare attività pratiche di tipo ludico e creativo proprio per stimolare l'apprendimento ovviamente della lingua inglese, in particolare oggi parliamo della scuola dell'infanzia e in primaria e ovviamente a tema Easter. Auguro a tutti un buon ascolto e lascio a Valentina la parola. Grazie, grazie mille, buonasera a tutti, spero che mi sentiate bene ugualmente nonostante io abbia veramente oggi un filo di voce, faccio il possibile e anche l'impossibile per cercare di continuare a parlare, qualora non dovesse sentirmi bene fatecelo notare, io cerco sempre di tenere il microfono vicino in modo che si senta quanto più possibile. Allora, benvenuti, benvenute, siete tantissimi, quindi comincio condividendo il mio schermo così riusciamo a seguire passo passo anche con le slide. Siete tutti excited for Easter? Avete già comprato le uova di Pasqua? Qualcuno fa l'albero di Pasqua? I bambini sono già tutti pronti per la prossima festività, i prossimi giorni senza scuola? Probabilmente sì. Ok? Oggi vedremo alcune attività, ma prima conosciamoci un pochino, ok? Ditemi, diteci qualcosa di voi. Vedete un sondaggio in chat a breve, potete cliccare sopra le risposte. Vorrei sapere un pochino chi siete, cosa fate e se ci conoscete già. Ok, vi si apre un pop-up, perfetto, cliccateci sopra e fateci sapere. Esatto, ovviamente questo purtroppo è limitato alla presenza su Zoom, ma chi vuole da Facebook mi può scrivere tra i commenti e riporterò io per voi. Non so se vuoi la condivisione delle risposte in tempo reale. Sì, lo vedo, non so se lo vedo solo io, vedo il sondaggio andare su, non so se lo vedo solo io, lo vedono tutti, sto vedendo mano a mano le barre che vanno avanti. Probabilmente lo vediamo tutti, quindi non so, però nel frattempo sto vedendo. Vedo che la maggior parte insegna la scuola primaria, ok? E siamo anche spaccati a metà tra chi ha già partecipato e chi ha già partecipato, quindi qualcuno ha già partecipato, qualcuno no. Anzi, al momento la maggior parte no, 60% no e un 40% sì. Scusami, ne approfitto del tempo del sondaggio per commentare un commento. Non vi preoccupate se non siete insegnanti, ma noi apriamo ovviamente anche a chi lavora con i bambini in altri ambienti. Assolutamente non limitiamo la partecipazione a chi ovviamente non è di ruolo, comunque non è la figura dell'insegnante, ma anzi anche a tutti gli educatori e appassionati assolutamente. Da Facebook qualcuno scrive scuola dell'infanzia non ha mai partecipato, quindi direi che oggi per la maggior parte c'è chi non ha partecipato a questi webinar tuoi, quindi gli diamo ovviamente il benvenuto, grazie per essere qui e per la maggior parte abbiamo scuola primaria a seguire l'infanzia. Perfetto, allora benvenuti a tutti, benvenuti soprattutto a chi non ci ha mai seguito e che quindi non conosce bene il format, quindi andremo passo passo e spiegheremo tutto e ci tengo a precisare che insomma possono essere attività anche utili per i genitori, perché no, per i genitori dei piccolini, ok? Io pure ho un piccolino che ancora questo tipo di cose non le può fare perché è troppo piccolo, però mi rendo conto che magari dai tre anni in poi sono attività che possono essere utili, quindi chiunque, non soltanto i docenti, non soltanto gli insegnanti. Ok, ci hanno risposto quasi tutti credo, giusto? 96 su 110, 112, tutti, quasi tutti. Ok, dimmi se vuoi condividere i risultati e chiudere, perfetto, ok, faccio fare a te questa parte e non tocco la finestra se no. Ok, me lo vedo ancora, adesso lo chiudo, ok, così ci siamo, perfetto. Abbiamo un'idea, almeno io ho un'idea di chi ho davanti, ok? È giusto che voi abbiate un'idea di chi sia io, mi chiamo Valentina Ambrosio, sono un'insegnante d'inglese, insegno da circa 15 anni e ho insegnato diversi gradi di lingue, gradi scolastici anche, quindi sia infanzia primaria che anche secondaria in alcuni periodi della vita. La fascia, diciamo, più frequente che ho è quella tra i 4 e i 10 anni, quindi fine dell'infanzia e scuola primaria. Penso che sia il lavoro più bello del mondo, nonostante sia a volte magari impegnativo, però è bellissimo vedere i bambini illuminarsi e riuscire a esprimersi e riuscire a capire in un'altra lingua. È bellissimo vedere che non hanno il filtro che abbiamo noi adulti nella comprensione o nella resistenza all'apprendimento di un'altra parola anche con la pronuncia. È molto bello vedere quando riescono a capire cosa hanno detto, cosa abbiamo detto e riescono a farsi capire, quindi mi fa molto piacere. Con Non Teach sto svolgendo una serie di webinar gratuiti. Abbiamo fatto i macro temi più grandi finora, quindi Natale e Halloween. Se volete potete andare a vedere le registrazioni sul sito, sulla pagina Facebook anche, in modo da farvi un'idea anche di altro tipo di attività. Ne vedremo alcune oggi. Faccio una premessa generale, quindi vedremo delle attività a tema Easter, pasquali, pronte da usare in classe. Alcune sono un pochino più adatte ai bambini della scuola di infanzia, altre alla scuola primaria. Alcune possono adattarsi a tutte e due, con qualche scamotage, qualche tips che vi darò mano a mano, attività per attività, su come eventualmente fare delle piccole modifiche e adattare la stessa attività a diverse fasce d'età. Ok, vi do quest'idea. Quando parlo di attività, premetto sempre che parlo di attività di tipo ludico-ricreativo. Parliamo di attività per una lezione spezza routine, una lezione differente, diciamo, da quelle che potremo fare in classe in generale, che prevedono magari un pochino più di writing, un pochino più di vocabulary. Io mi focalizzo un po' di più su quelle attività che permettono di sviluppare competenze comunicative, quindi sia ricettive che produttive, quindi ascolto, listening e produzione, speaking, per la maggior parte. Quindi vedrete attività un pochino più dinamiche. Alcune sicuramente sono attività che già svolgete nella vostra routine quotidiana. Quindi sono solo tematiche e possono esservi d'aiuto come idee. Queste idee possono esservi d'aiuto per spunto, per le prossime lezioni di questo mese con la Pasqua in arrivo. Da dove voglio iniziare? Allora, voglio il vostro contributo per prima cosa. Quali simboli, quali cose vi vengono in mente se parliamo di Pasqua? Ok, vorrei che pensaste a tre parole in inglese e che le andaste a scrivere in questa pagina a cui potete accedere in due modi. Il primo è scannerizzare il QR code, potete farlo col cellulare se non siete connessi col cellulare. E il secondo è cliccare sul link che vi sto copiando in chat. Ok, lo vedete spuntare nella chat. Potete cliccarci sopra, scegliete tre simboli, tre simboli, ok, che associate alla Pasqua, tre cose. Scrivete tre parole in inglese nella pagina. A breve vediamo insieme i risultati, ok? Vi lascio un po' di tempo per farlo. Così, lavoriamo insieme con le idee. Specifico che l'ho pubblicato anche tra i commenti di Facebook, così possono in questo caso... Perfetto. Perfetto, grazie mille. Da qualcuno sta arrivando. E nel frattempo vedo arrivare i vostri risultati. Appena siamo pronti lo condivido. Alcune sono risposte che mi immaginavo. Grazie, state rispondendo tantissime. Vi lascio l'ultimo minutino, poi ve lo mostro. Eccolo qua. Ok, vi comincio a mostrare i risultati. Vedete, è un grafico, ok? Classico. Piano di... Piano di parole, eccolo qui. Ora, ovviamente, le parole con il font più grande sono quelle che sono state digitate più spesso. Quelle con quello più piccolo, quelle che sono state digitate meno spesso da voi, ok? E ovviamente al centro c'è un bel Easter Bunny, eccolo là. E poi Easter Eggs, eggs, chocolate eggs, eggs in vari modi. Ovviamente, essendo un sondaggio fatto al computer, se scriviamo Easter Egg, Easter Eggs, ce lo mette due volte in due posti diversi. Ovviamente è la stessa cosa, ok? Quelli più piccoli, li guardiamo nell'angolino, surprise, ok? Surprise dentro l'Easter Egg, colorful, ok? Spring, sì, spring and flowers, sono tra i più piccolini. E poi ci sono simboli tipici, hot cross buns, Easter bunnets, sì, ticks, rabbits, Easter hunt, ok? Peace, questo mi piace, peace, eccolo. Ok, vedo che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, abbiamo quest'idea, ok? La prima cosa, una delle prime cose che ci viene in mente, quando pensiamo alla Pasqua, è il coniglio, è poco da fare. Il simbolo è quello, ok? E oltre alle uova, tutte le salse, quindi uova di cioccolato, ma non solo, ok? Quelle sono le prime due cose che ci vengono in mente, che vengono in mente anche ai nostri bambini, ok? Quindi, torno alle slide, così seguiamo mano a mano. La prima cosa che vi propongo di fare oggi, sono appunto le arts and crafts, i lavoretti, ok? Le cose manuali. Di solito li teniamo come attività finale, per finire la lezione, fare in modo che i bambini abbiano un regalino, un ricordino della giornata da portarsi a casa. Oggi ve li propongo per primi, poiché vorrei mostrarvi un semplice, semplicissimo arts and crafts per fare due orecchie da coniglio, ok? Che ci serviranno durante le attività, ok? Io vorrei che queste orecchie da coniglio possano essere ispirazione per fare lo switch tra una lingua all'altra. Cioè, quando indosso le orecchie, cominciamo a parlare inglese. Quindi ci prepariamo con le orecchie e poi cominciamo a parlare inglese. Questa cosa funziona tanto sia all'infanzia che alla primaria per spronare i bambini a esprimersi solo in inglese, ok? Ah, c'hai le orecchie. Se parli italiano non ti capisco e se mi chiedi qualcosa in italiano non ti rispondo, ok? Perché ho le orecchie. Questo ci può tornare utile. Vi ho messo qui un link a un video di YouTube, ok? Se volete possiamo guardarne un pezzettino, ma sono molto molto semplici. Per i tutorial sulle Arts and Craft io di solito faccio capo semplicemente a Pinterest. Non so se ne avete mai sentito parlare o se è un social che usate, probabilmente sì. Perché ci sono dei tutorial molto semplici, spiegati passo passo, anche per chi ha poca manualità, ok? E quindi anche per i bambini sono facili da seguire, è facile per noi imparare e avere in mano una chiara idea su come spiegare ai bambini come fare le orecchie, per esempio, ok? Per queste orecchie ci serviranno dei fogli di carta, un elastico, matita, forbici e cola stick. Semplicissimo, ok? Se per caso non avete tempo di fare le orecchie in classe, potete assegnarlo come compito e chiedere ai bambini di portarle, ok? Oppure semplicemente chiedere ai bambini di portare qualcosa che sia per loro un simbolo di Pasqua, ok? Una qualsiasi cosa che possano indossare durante la lezione e che possa fungere appunto da orecchie, ok? Se per qualsiasi motivo non riuscite a fare craft. Arts and crafts sono una delle attività che di solito preferiamo per i piccini, soprattutto a ridosso delle vacanze grandi, Natale, Pasqua, perché ci permettono di spezzare un po' la routine, di fare qualcosa di divertente, no? Quindi ci piacciono. E per i piccini nella scuola di infanzia ovviamente si potrà pretagliare il materiale, preparare molte cose. Per l'infanzia dipende, per la primaria dipende dalla classe, ok? Dall'età. Ci sono diverse idee, io adesso vi mostro delle immagini che forse vi faranno sorridere. Eccoci qua. Ci sono diverse arts and crafts, ok? Ve le ho annumerate in modo da potervi raccontare brevemente, ok? Non solo come farle, ma per cosa possiamo usarle. Perché è vero che servono a sviluppare abilità manuali, fine motor skills, gross motor skills, discernimento dei colori, dei simboli, ma possono anche esserci utili all'interno della lezione, ok? Ad esempio la 3 e la 4 sono attività che uso spesso in classe, sono craft che uso spesso in classe. La 3 la utilizzo per mandare a casa o portare a casa un Easter poem, un messaggino di Pasqua, ok? I bambini possono scrivere all'interno dell'uovo oppure dietro il coniglio che viene fuori da dentro l'uovo, ok? E quindi mandare a casa il messaggino in inglese. Il messaggino può essere sia scritto in maniera creativa, che copiato, che prestampato, a seconda del livello di competenza linguistica dei nostri bambini, ok? Per quanto riguarda la 4, invece, mi piace utilizzarla come attività di arts and craft collaborativa in gruppo. A quel punto ad ogni bambino viene assegnata una fantasia, oppure ogni bambino mette la sua creatività nell'assegnare una fantasia per creare tutte le piccole uova che serviranno a fare una ghirlanda decorativa, magari per la classe, ok? Magari per la classe. Interrompo un secondo la condivisione, vorrei farvi vedere un pezzettino, proprio un pezzettino delle orecchie, ok? Di cui vi parlavo prima. Quindi vi apro un secondo il video, ok? Non lo guardiamo tutto, ma guardiamo proprio un pezzetto. Arrivo. Scusatemi. Allora. Allora, tornivido un pezzettino di video. Mi vado un po' avanti, così vi dà un'idea. Fin qui ci siamo, vediamo il risultato. Eccole qua. Ok, qui si vede, vi siete fatto un'idea come possono essere usate. C'è un elastico in modo che possano essere tenute intorno alla testa, ok? Volevo farvele vedere perché sono carine. Si entra molto nel mood quando uno si mette addosso alle orecchie, ok? A cosa ci servono, per prima cosa, le orecchie? Torno alle slide così le possiamo vedere. Numero uno. Attività di TPR. Social physical response. Attività nelle quali si dà un'istruzione verbale e la comprensione da parte del bambino è dimostrata con un movimento fisico, ok? Queste attività possono essere utili sia a inizio lezione, per creare un engagement alla lezione, sia per introdurre o revisionare le parti del corpo, ok? Perché ci muoviamo con il corpo, oppure per spezzare il ritmo da un'attività seduta a passare a un'attività in piedi, ok? Serviranno appunto delle orecchie da coniglio, le possiamo fare, oppure come vi dicevo prima potete chiedere al bambino di portarle o di portare un altro simbolo, ok? E il gioco a cui pensavo somiglia un po' al Simon Says. Simon Says, questo, Simon Says, quell'altro. Ce l'avete presente il gioco Simon Says? Lasciaci un cenno. Anche se c'è qualcuno che ce lo vuole spiegare, coraggioso ad alzare la mano e raccontarci come funziona il Simon Says, buon volentieri. Salva vita, Simon Says. Sì, salva vita, lezione. My favorite game, ok? Sollezare i vostri messaggi. Un classico, sì. Per alcuni è un classico, qualcuno online non lo conosce. Ok. Un Simon Says è un'attività in cui io chiedo ai bambini di fare qualcosa, un movimento. E anzi, esatto, si fa l'azione indicata solo se viene detto Simon Says. Perfetto, ok? Il nostro Simon Says today è l'Easter Bunny. Quindi è, Easter Bunny says. Easter Bunny says, hop left, hop right. Easter Bunny says, touch your nose, touch your ears. Easter Bunny says, shake your cottontail. Shake your cottontail, ok? Ovviamente, come tutti i Simon Says, inizia l'insegnante e dopodiché si dà il turno a un altro bambino di dare le istruzioni. Chi vince, chi perde. Questa attività ci serve per, appunto, rivedere le parti del corpo, introdurre vocabolario della Pasqua, tipo hop hop, ok? Hop like a bunny, che è un po' diverso da jump, no? Hop e jump sono diversi. Shake, ok? Anche cose come ears and tail, perché tail non è proprio esattamente una part of the body umana, ok? E quindi fa ridere. Shake your tail è un po' come dire, muovete il culetto senza dirlo, no? Quindi i bambini ridono tanto, gli piace questa cosa, ok? E quando gli date la parola, soprattutto quelli un po' più grandiceri, non fanno altro che dire shake your tail, shake your tail, ok? Sempre stu tail, ok? È carino. E come dicevo, potrebbe essere utile sia per entrare nella lezione che per uscire dalla lezione, quindi per chiudere, oppure per spezzare il ritmo, ok? Un classico. Simultess, ok? Ok, un altro classico. Una Easter Egg Hunt. Ok. Avete mai visto una Easter Egg Hunt di quelle grosse, americane? Fatecelo sapere. Ditemi, ditemi. Scrivete o parlatemi, alzando la mano, se volete. Avete visto una Easter Egg Hunt? No, purtroppo no, ok? No, ok. Ah, le tedesche, sì? Fatta con amici a New York. Benissimo. Non dal vivo. Alla White House, sì, esatto. Only with video, ok. L'abbiamo visto in video, esatto. E i bambini quasi non la conoscono, ok? Gli capita di vederlo forse al tre. Ah, organizzata scuola, bellissimo. Anche quest'anno la faremo. Molto bene. Perfetto, bellissimo. Ora, una Easter Egg Hunt di quelle classiche funziona in questo modo. Si fa la casa bianca, sì, ma si fa anche in tutte le case americane, nel giardino, ok? Cosa succede? I genitori o chi per essi nascondono delle uova di cioccolato, generalmente in giardino. L'organizzata con i bimbi, perfetto. Perfetto, nel giardino, fantastico. Se avete un giardino, tutte queste attività si possono fare fuori. Perfetto, ok? Una Easter Egg Hunt, quindi, di solito funziona così. Vengono distribuite delle uova di cioccolato. I bambini non sanno dove sono. Devono cercarle con i loro cestini, ok? E normalmente il premio della Easter Egg Hunt sono appunto le uova di cioccolato e l'attività può essere più o meno competitiva. Nel senso, chi vince si tiene le uova, oppure chi vince più uova vince anche un determinato premio, ok? Noi possiamo utilizzarla esattamente come si fa, utilizzando ovviamente uova di carta o di plastica, oppure se preferite le cioccolate, ok? Possiamo farla sia in maniera prettamente ludica, ricerca della cioccolata, ok? Sia in maniera un po' più didattica. Se le uova sono di carta o di plastica e quindi sono apribili, possiamo scegliere sia di non metterci nulla, di fargli trovare delle uova di carta, da decorare, da colorare. Oppure possiamo scegliere di riempire le uova con speciali sorprese. Queste speciali sorprese possono essere ad esempio delle paroline, paroline che vogliamo insegnare, o paroline che abbiamo già insegnato e vogliamo rivedere, ok? E poi con quelle paroline, ad esempio i bambini che lavoreranno poi magari in gruppo, oppure il gruppo che ha trovato quelle paroline con un solo cestino, può lavorare in mille modi. Possiamo chiedere loro ai più grandicelli di usarle per scrivere una storia sulla Pasqua, ok? Oppure possiamo chiedere loro di creare un poster colorato con tutte le parole che hanno trovato, ok? Oppure ancora queste parole possono essere oggetto di un cruciverba, ad esempio i bambini possono creare un cruciverba, qui parliamo di bimbi un pochino più grandi, è quarta e quinta. Possono creare un cruciverba incrociando quelle parole, ok? Puoi scrivere per ognuna di quelle parole, in lavoro di gruppo, delle definizioni. Definizioni, se preferite o se non avete tempo, per ognuna delle parole possono essere create definizioni come compito a casa. È un po' più difficile per un bambino solo, quindi diventa un lavoro di gruppo a casa, quindi non so. Da valutare se avete la possibilità di questo tipo di attività. Le definizioni poi create possono essere condivise con un altro gruppo di bambini che devono poi risolvere il cruciverba. Quindi anziché dare una classica fotocopia con un cruciverba da risolvere, possiamo crearlo noi. È un'attività forse un po' più impegnativa, challenging, però per i bambini un po' più grandi può essere utile, può essere uno sforzo a usare la funzione metalinguistica di definizione della parola che hanno trovato, ok? Leggo i vostri messaggi, ci hanno messo gli stickers, perfetto, ok? Le uova possono essere riempite con ciò di cui avete bisogno. Se avete bisogno di un'attività ricreativa, didattica, divertente e basta, va benissimo sia la cioccolata che i stickers che le sorprese, ok? Se volete portarla a un livello un pochino più difficile, paroline, paroline di Pasqua, ok? In cui ci siete. Benissimo. Ok, due cose classiche abbiamo visto. Le orecchie, Simon Says e Stray Gunt. Cose che succedono solo a Pasqua, ok? Proseguiamo e andiamo avanti. Questo tipo di attività, scusate, è un'attività che invece vediamo anche per altre festività, per altre occasioni, ok? Noi ve l'abbiamo preparata proprio come materiale scaricabile, ok? Su questa attività trovate due possibili livelli di PDF scaricabili sul sito. E quindi insieme alle slide troverete i PDF scaricabili, che è un color by number. Avete mai visto un color by number? C'è un'immagine piena di numerini negli spazietti giusti, ok? E a ogni numero corrisponde un colore. Colorando negli spazietti con i numerini viene fuori un'immagine, oppure si colora l'immagine chiaramente pasquale, ok? Questa attività ci serve sia per riportare la calma dopo un Easter Egg Hunt, per esempio, sia come Reading Comprehension, se al posto del colore associato al numerino mettiamo la parola del colore associato al numerino. Ci scriviamo 1 uguale yellow senza colorarlo. Lì diventa un Reading Comprehension, ok? E ovviamente ci fa rivedere sia i numeri che i colori, ok? Se vogliamo che leggano one yellow. Abbiamo rivisto tutto, ok? L'unico tips, l'unico consiglino che mi sento di darvi su questa attività, sicuramente siete esperti e ci avrete fatto caso, sicuratevi sempre che tutti i bambini abbiano tutti i colori necessari, altrimenti nel mezzo dell'attività posso prendere quello, il giallo, il marrone, ma io non ce l'ho, ok? Diventa un po' più caotico, quindi tutta la parte di calma, di mettere i miei seduti, va un po' a perdersi in questo senso, ok? Se abbiamo classi particolarmente numerose, questa attività può essere fatta in coppia, a patto che voi conoscete i vostri bambini, siano in grado di condividere una copia da colorare, ad esempio dividendosi i colori, scegliendo chi fa il giallo, chi fa il rosso, ok? I lavori finali sta a voi decidere se usarli come decorazione della classe o se farli portare a casa, ok? Io vi ho fatto due piccoli screenshot sulla prossima slide per darvi un'idea di che attività sto parlando, poi come vi dicevo trovate il pdf scaricabile, ok? Carino, carino. Eccone una, ok? Vede l'immagine? Sì, noi sì. I bimbi un po' meno, ok? E questa è un po' più semplice perché è sia il colore che la parolina, ok? Poi ce n'è una più difficile, non mi è venuta fuori. Eccole qua, ok? Una e due. Allora, queste attività possono essere utilizzate anche sia come, diciamo, color by number che come color dictation, ok? La color dictation è simile, ok? Però, la possiamo usare sia come reading comprehension che come listening comprehension. A seconda di se decidiamo di far leggere le istruzioni o se facciamo ascoltare le istruzioni. Le istruzioni di come colorare, cosa colorare, possono essere lette dall'insegnante, ok? O se preferite, le leggete prima, le registrate e mandate sulla registrazione. Entrambe le cose. Anche questa attività è un'attività di colore, quindi può essere utilizzata per riportare la calma, ok? E anche questa ci aiuta a rivedere tutti i colori e tutti i simboli della Pasqua, ok? Ve le mostro di nuovo le immagini. La vedete a sinistra? È un po' più semplice. Ci sono simboli un po' più conosciuti. Quella di destra, invece, quando andiamo a dare le istruzioni, diventa un po' più complessa. Se devono colorare un coniglio, devono ben capire quale coniglio colorare, ok? Trovate tutto il worksheet, come vi dicevo, il PDF scaricabile, con tutte le istruzioni. Poi sta a voi decidere se dare la fotocopia con le istruzioni scritte oppure se leggere le istruzioni e quindi fotocopiare solo un pezzettino, solo un pezzettino di sopra, ok? Anche qui controllate che abbiano tutti i colori necessari, tutte le istruzioni necessarie, ok? Le immagini le ho prese da Pinterest. Potete anche variarle le immagini, se volete, e modificare tutte le istruzioni che ritenete opportuno inserendo ciò che vi serve e che i vostri bambini facciano pratica, ok? Ciò che vi faccia piacere, quello che vi fa piacere, ok? Non so se avete bambini che colorano volentieri oppure no, però questa è una delle attività di solito più gettonate, ok? Ok, andiamo avanti. Passiamo a un'attività specifica per la pronuncia. Ora vi mostrerò sia una frase da leggere, sia dei simboli fonetici nella prossima slide. Vi do un accenno, eh? Quelli qui. Ok. Ora, quando mostro i simboli fonetici e parlo di scuola dell'infanzia e scuola primaria, trovo qualche obiezione a volte. Ma no, ma i simboli fonetici è troppo presto. Ma non possono capire. Ma assolutamente no. Allora, facciamo un rapido sondaggio senza sondaggio, ok? Ditemi solo sì, no, nel senso avete già usato, siete pro simboli fonetici alla primaria? Oppure no? Veloce, veloce. Sì, pro, ok. Eeeh, benissimo. Mi dà la seconda, sono d'accordo con la seconda. Quelli semplificati, benissimo. Slowen, ok. Eh, John, piace slowen, sì, sì. In quinta, ok, in quarta. Ok, va bene, ok. Mi fa piacere capire un pochino come la pensiamo, ok? Ci sono alcune persone che hanno difficoltà a capire a cosa possono essere utili i simboli fonetici, ma in realtà, ma infanzia è primaria, primaria soprattutto, ok? Possono essere molto utili a sottolineare il fatto che si legge in un modo diverso da come si scrive, in differenza dall'italiano, ok? E quindi, per fare questa pratica, l'attività che vorrei proporvi è quella di un tongue twister, uno scioy di lingua. Ora, io qui vorrei veramente tanto un volontario che provi a leggerlo. C'è qualcuno che se lo sente, c'è qualcuno che voglia. Allora, se qualcuno si vuole, ci mi chiede. Oh, ecco. No, scherzo, lo faccio io, eh, lo faccio io. Allora, se vuoi sono qua, non mi nascondo. Invece mi stavo nascondendo. Sono nascondendo. Ero ancora senza telecamera. Allora, ci provo. Ci provo, ci provo. Every Easter, Eddie, Is, Eighty, Excellent, Easter, X. Bravissima. Bravissima. Sono andata via. Ovviamente. Grazie mille del contributo. Cosa stiamo giocando? Stiamo giocando sul fatto che questa lettera E si legge in tre modi diversi, a seconda di dove la mettiamo, ok? E lì, ma come, ma perché, ma c'è scritto E. Ok, questa è la parte divertente. C'è una pratica di pronuncia. Quindi la prima cosa che faremo è leggerlo senza mostrarlo. Questo è fondamentale quando lavoriamo con la pronuncia. ascoltare senza leggere, se vogliamo focalizzarci sulla pronuncia. E poi lavoriamo con chants oppure attività di drilling per farlo memorizzare. I chants e drilling alla scuola primaria possono voler dire ripetere lo sciogliling al song twister lentamente. Puoi ripeterlo velocemente. Puoi ripeterlo ad altissima voce. Puoi ripeterlo a bassissima voce. Puoi ripeterlo in balenese. Esagerando tantissimo. Puoi ripeterlo, magari farlo ripetere a uno dei bambini oppure una parola ciascuno. Ripeterlo mille volte e in mille modi nella parte in maniera più divertente che ci viene in mente. In modo che l'abbiano memorizzato dopo un po', ok? Ovviamente partiremo con una parola, poi con due, poi con tre. Faremo ripetere tutto. Una volta pronunciato tutto e ripetuto tutto i bambini sapranno come pronunciarlo e non esattamente come leggerlo. Ma siccome l'avranno pronunciato più volte se lo mostriamo scritto presumibilmente lo leggeranno bene. Ok? Se si ricordano come si pronunciava. Ovviamente più sono grandi bambini più tenderanno a cercare di leggere anziché pronunciare bene. tenderanno a leggere come pensano che si legga senza pensare che stanno esattamente leggendo quello che hanno appena finito di pronunciare tante volte. Ok? E lì si accenderà la lampadina. Ma così si legge. E magari andranno a casa dicendo sai oggi ho scoperto che si legge così questa parola in inglese, lo sai? Con il loro classico entusiasmo di andare a casa a dire mamma, mamma, papà, papà. Ok? Si legge così. Ho scoperto che si legge così. Ok? Quindi la prima il primo focus di questa attività è sviluppare la consapevolezza della differenza di pronuncia. E una consapevolezza di essere capaci di pronunciare delle parole in un'altra lingua. Ok? Io penso sempre che non sia mai troppo tardi iniziare ad avere questa consapevolezza soprattutto con i bambini. anche siccome si pronunciano diversamente è la stessa identica lettera. In italiano sempre quella, ma in inglese no. Oddio, sempre quella. C'abbiamo anche le differenze in italiano. Però questa cosa quando ci si approccia all'inglese sembra sempre di più. Mamma come? Si leggeva così adesso? Perché si legge così? Ok? È una delle obiezioni più frequenti che ho. Magari ce l'ho avuta anche dai grandi. Più grandi sono i miei studenti più ci ho avuto questo tipo di obiezione. Ok? Per i piccini, piccini ovviamente per qualcuno che sta pensando all'infanzia possiamo evitare di leggere. Chiaramente anche la prima elementare magari evitiamo di leggere se è necessario e ci focalizziamo solo sulla pronuncia e per capire il significato lo spieghiamo con i gesti con i disegni con i movimenti ok? Per spiegare cosa significa il tongue twist. Una volta pronunciato bene e capito bene siamo pronti per lavorare un'attività. Ok? Gli mostriamo questi esempi sia alla lavagna che alla lim che una fotocopia come preferite e lasciamo che i bambini in gruppo scrivano a quale pronuncia appartiene ogni singola parola. Se si ricordano quello che abbiamo pronunciato e ripronunciato e cantato prima dovrebbero essere in grado di farlo in maniera semplice. Ok? Sono le stesse parole Every Easter eats AC Excellent X Ok? Sono le stesse parole quindi ci siamo. Possiamo dare loro un esempio di una parola che va per ogni categoria. Ok? E quale va? E quale va? I quale va? EI ok? Giusto così per dargli un'idea. Ok? Avete fatto già qualcosa di simile? Avete usato qualcosina del genere? Dittemi un po'. No? Qualcuno no? Qualcuno sì? No? Ok. Possono chiedere che significa? Certo. Esatto. bisogna resistere un pelino 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 ok? Ma che significa il tongue twist o che significa il simbolo? La parola? Il tongue twist ok? Per il significato del tongue twist ci arriviamo alla fine. Bisogna sempre resistere io resisto sempre un pochino e gli dico aspetta ripeti prima ok? e poi te lo spiego e se nella ripetizione riusciamo a fare i gesti ok? Ripetere o disegnare Eddie Easter Eddie possiamo anche portarci un Easter Eddie che può essere un peluche qualsiasi il nostro bunny si può chiamare Eddie ok? e un disegno o una flashcard con 80 uova ok? Allora possiamo indicare Easter Eddie eats 80 excellent Easter eggs e possiamo contarle di nuovo queste 80 excellent Easter eggs facciamo vedere l'immagine diciamo one two three four forse non arriveranno a tanto ok? ok si possono cerchiare le E sì possibile ok sì sì tante cose vi possono venire anche altre idee su questo tipo di attività sicuramente vi possono venire pensando ai vostri bambini di solito vi viene in mente quello che può essere adeguato ai vostri bambini ok? se pensate che può essere troppo semplice troppo difficile riuscite in genere con la vostra esperienza ad adattare l'attività ai bambini che avete davanti o a decidere di ometterla se pensate che sia troppo complessa ok? mi piace molto lavorare tanto con la pronuncia sull'infanzia primaria perché è il momento migliore per sviluppare una pronuncia adeguata poi da adulti e possiamo farlo sia con i simboli che senza però mi piace fare tante canzoni tanti chants tanto thrilling e meno scrittura perché ci aiuta a sviluppare appunto da piccoli una buona pronuncia e la consapevolezza che si pronuncia diversa da come si scrive quindi a me piace lavorare così sì ci sono anche e con pronuncia diversa sì però io eviterei di mettere tutte le e con tutte le pronunce diverse tutte insieme lavorerei un pezzettino alla volta ok ecco il pezzettino alla volta se decidiamo che stiamo facendo la lettera e può essere un'idea ok sia per Pasqua che se stiamo lavorando con la lettera e ok in questa frase sì c'è excellent che non si pronuncia ok every che non si pronuncia non si pronuncia every anche questo si può far notare sì ok tongue twister tanta roba da fare qui un solo tongue twister piccolo piccolo e poi si può decidere di farlo leggere a tutta la classe farlo leggere uno studente alla volta se ritenete sia opportuno farlo leggere uno studente alla volta se c'è qualche studenti più brillante che tende sempre ad altare la mano io 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 voglio farlo io voglio dirlo io si può dire ok dillo prova oppure si può fare una gara chi sa dirlo più veloce o anche per coinvolgere tutti una gara chi sa dirlo senza parlare solo muovendo la bocca una gara chi sa dirlo più lentamente ok tutte le gare possibili ok si possono fare tante cose con un solo tongue twister ok non solo tongue twister si possono fare poi queste attività con vari tongue twister la stessa attività a seconda della lettera che ci serve o della frase che ci serve di far ripetere o imparare diverse attività diverse tongue twister si può decidere di fare un tongue twister alla settimana oppure il tongue twister del mese ok vi ricordate che l'abbiamo fatta a Pasqua noi facciamo un altro di altra pronuncia ok sto espannendo eh mi sto allargando un pochino ok spero non troppo vado avanti e vi mostro altre attività altre tipologie ok ok la prossima è un Mr. Cryptogram un Cryptogram anche questo piace molto ai bambini ci serve per revisionare l'alfabeto e lo spelling ok e ci serve anche per rivedere tutti i simboli della Pasqua panni eggs church peas Easter spring tutti riportare di nuovo la calma dopo un tongue twister animato oppure da assegnare come compito a casa vi mostro alcuni esempi giusto per darvi un'idea nel primo a sinistra ci sono tre simboli potete avere altri tantissimi e ad ogni lettera è associato un numerino i bambini devono scrivere la lettera associata al numero per formare la parola relativa al simbolo se i bambini sono più piccoli o se semplicemente ci piace vederla un pochino più colorata possiamo associare un simbolo ad ogni lettera attenzione che i simboli non sono tanti quanto le lettere quindi la variante sta nel tipo di colorazione decorazione a bambini piace molto questa cosa quello di destra a volte gli piace creare un messaggio loro con quei simboli oppure addirittura crearsi un alfabeto con i simboli disegnare tutti i simboli da capo di loro scelta la loro scelta di colore la loro scelta di simbolo da associare a una letterina e lasciare un messaggino segreto il messaggino segreto può semplicemente essere happy easter può essere love you mom può essere qualsiasi messaggino segreto viva l'inter qualcuno mi ha scritto col messaggino segreto ok però può essere tutto ok i love winks queste cose qui però li 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 incoraggia a riguardare tutte le lettere e a pensare anche se magari lì come si dice come si come si fa lo spelling della parola non viene poi ci possiamo lavorare noi ok che cos'è il 2 egg how do you spell it e g g sì tutti insieme ok creare il messaggio rileggere il messaggio è un'attività che piace quindi si può facilmente assegnare come compito se non c'è tempo o si può utilizzare come attività di fine lezione per riportarli un attimo seduti prima di andare via in modo che poi possano andare a casa con la fotocopia e con le orecchie ok come le orecchie di prima ok vi lascio giusto così un'idea un'infarinata di altre idee su alcune di queste vi do qualche qualche esempio abbiamo visto già nei webinar precedenti quasi tutte queste idee tranne l'ister poem ok quindi trovate queste idee nei webinar precedenti con altra tematica vi do qualche esempio qualche idea un bingo lo abbiamo visto per Natale nella maniera più classica quindi con i numeri ok e tirando fuori i numeri o tirando fuori i simboli del Natale un bingo classico quindi una tombola ok cosa si vince cosa non si vince per la Pasqua si presta molto bene a farlo con i simboli magari gli stessi simboli del criptogramma che abbiamo visto prima no quindi funziona in questo modo viene data una cartella quella della tombola vuota in cui i bambini devono inserire a loro scelta dei simboli possiamo scegliere noi quanti 6 9 12 24 dipende a seconda di quanto sono grandi o capaci i nostri bambini possiamo anche dire loro di disegnarli se pensiamo sia una buona idea ok o se pensiamo che loro adorino e vogliono disegnare i simbolini ok io l'ho fatto sia disegnando sia dando dei simbolini già tagliati da incollare tipo stickerini ok lo sticker va per la maggiore a una certa fascia d'età quindi se trovate i sticker di Pasqua benvenga se non li trovate si trovano in giro però se non li trovate o se non volete non avete budget ok per questo tipo di cose potete stamparli fare i riquadrini che entrino nella cartellina della tombola e chiedere loro di incollarli semplicemente e poi cosa si fa si estrae anziché il numerino il simbolo di Pasqua se questa attività la facciamo fare a un bambino che sicuramente ci sarà qualche bambino che vorrà estrarre i simboli dopo che l'abbiamo fatta a noi una prima volta questo spronerà tutti chi comunque voglia partecipare a capire come si pronuncia il simbolo di Pasqua prendo su bunny prendo su egg prendo su cross oppure un fiorellino spring sia come si pronuncia che come a cosa significa che cos'è a cosa si associa a quale simbolo ok quindi se coinvolgiamo uno dei bambini che vuole essere coinvolto ad estrarre i simboli quel bambino farà pratica e dovrà dire come si dice quella parola se non se lo ricorda può chiedercelo ok per fare il bingo l'ho accennato già a Natale è fondamentale che abbiate con voi dei premietti per l'ambo per il terno per la quaterna e per il bingo se non si vince niente non ci piace la prima volta o la seconda dopo chiedono di farlo ancora terza quarta quinta lì anche se non si vince niente non fa niente ok ovvio i premietti per il bingo di Pasqua più semplici da 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 scegliere sono fatti di cioccolato scegliete voi se è il caso o no che tipo di cioccolata cosa potete dare o non dare ai vostri bambini sapete voi allergie intolleranze problematiche zuccheri sapete conoscete le vostre classi ok quindi decidete se volete prendervi la responsabilità di usare il cioccolato oppure no se avete l'autorizzazione per farlo insomma ma ne è marea di variabili ok magari i premi più semplici sono cancelleria stickers gomme matite penne queste cose qui ok bingo quindi ok poi attività classiche classiche è lo storytelling animato uno storytelling è la lettura di una storia appunto animata perché chiediamo ai bambini magari di essere ognuno un personaggio se la storia è su un Easter Bunny che was hopping all over the fields in the spring flowers per esempio ognuno di loro può essere un personaggio e gli può venire chiesto di alzarsi e partecipare quando è il suo turno quando sente la parola del personaggio che rappresenta si alza in piedi o viceversa se sono tutti in piedi si siede o salta ok queste cose così classico anche il running dictation c'è un testo che devono copiare da una parte all'altra della stanza camminando andando avanti e indietro il classico I spy with my little eye o una scavenger hunt devono trovare qualcosa che per esempio inizi con la lettera e oppure devono trovare qualcosa che sia blu in classe ok questa la possiamo usare sia senza specifico scopo didattico giusto per riempire gli ultimi cinque minuti farli muovere un po' I spy with my little eye something blue punto oppure fargli indicare sui poster relativi alla Pasqua qualcosa che vogliamo che abbiano capito I spy with my little eye and it's your bunny e devono indicarlo correrci contro toccarlo oppure semplicemente indicarlo I spy with my little eye può essere fatto anche con una palla morbida possibilmente devono tirare sul simbolo queste cose del genere ultimo punto Easter poems come vi accennavo all'inizio se vi ricordate può essere scritto creato copiato o solo decorato un Easter poem già scritto per esempio è usato magari nel bigliettino con il coniglietto che viene fuori ok nelle prime craft che abbiamo visto per essere portato a casa ok per essere lasciato lasciato lì in classe come decorazione cose del genere ok quindi piccole piccole cose ok di questo tipo ci sono mille altre idee non posso non c'è il tempo non c'è il modo per inserirle tutte se ne avete altre a portata di mano che volete condividere fatelo pure lasciateci una parolina un link qualcosina che questo possa essere un momento di scambio e di condivisione tra colleghi o che ci possa tornare utile insomma l'un l'altro se vi vengono altre idee spero che le mie idee vi siano tornate utili fin qui e ci prendiamo un secondo di pausa io stop la condivisione così lasciamo il tempo se ci sono se ci sono le domande sei senza microfono Francesca ecco mi stavo dicendo eccomi qua si bevi pure assolutamente un sorso allora sto guardando anche eventuali domande sulla chat di facebook ho pubblicato il link per l'attestato quindi andatelo oppure a ricercare e grazie mille per le idee thanks qualche libro da consigliarci per storytelling adesso hai tu il microfono chiuso libri per lo storytelling ce ne sono veramente tantissimi sui coniglietti ok tutta una marea di storie possiamo magari condividere qualche link o qualcosa però se ne trovano veramente tutti i colori io suggerisco sempre laddove è possibile quelli con più illustrazioni possibili e magari utilizzare solo le illustrazioni ci sono degli editori non so se posso fare nomi che forniscono le illustrazioni da stampare in pdf in a4 grosse così e che quindi ci permettono di girare la pagina e girare l'illustrazione possiamo anche decidere Francesca di pubblicarne qualcuna se è questa la richiesta grazie intanto era arrivata un'altra idea bendati cercare di attaccare la coda coniglietto disegnato su un cartellone ok carino magari dando le indicazioni d'essere sinistra in inglese no in basso allora ecco è arrivato un consiglio it's not easy bing e bunny per quarta e quinta come storytelling viene un consiglio dalla chat e vedo che c'è invece Diana che non ha capito molto bene the running dictation ok per il running dictation potete fare riferimento alle slide del webinar di Natale ok in modo che possiate vedere in dettaglio le istruzioni e l'attività ok in genere ci sono due punti della classe uno in cui c'è tutta la storia e uno in cui c'è un foglio bianco e i bambini devono andare leggere un pezzettino riportarlo al foglio bianco e scrivere comunque tutte le istruzioni passo passo anche con un esempio di testo si trovano nelle slide del webinar di Natale le trovate lì e le istruzioni per fare la card col coniglietto che spunta dall'uovo sono Pinterest ok assolutamente Pinterest trovate passo passo sia video che foto ta 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 perfetto non vedo altre domande se non sbaglio quindi ringrazio come sempre chi ha partecipato grazie Mita Ambrosio e Valentina davvero per tutti i suggerimenti divertenti da portare in classe fateci sapere cosa realizzate mi raccomando vero? fateci vedere fateci vedere foto eh sì assolutamente e niente grazie come sempre e vi teniamo aggiornati con i prossimi appuntamenti mi raccomando rimanete sempre sintonizzati con London Teach grazie e a presto e buonasera grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti